Bandiera Neroverde, anche lei come cittadino comune è voluto esserci? Certamente, è importante essere presenti per rivendicare i diritti dell'Aquila perché non può morire col terremoto e quindi dopo nove anni ancora stiamo qua a padare le pene dell'inverno quindi giustamente questa manutenzione va al cuore del problema Va sostenuta e bisogna esserci anche se poi la cosa... Esattamente, anche se la cosa è un po' difficile averla, tuttavia bisogna manifestare e a livello locale, a livello regionale e soprattutto a livello di governo perché l'Aquila ha diritto di essere rispettata come hanno fatto le altre parti terremotate dove hanno avuto agevolazione sulle tasse e l'Aquila non ha avuto, ecco qua Beh certo, dopo nove anni la situazione la conosciamo tutti anzi forse è perfino tardiva una manifestazione come questa tuttavia è sicuramente una giornata dalla quale nessuno può tirarsi fuori le ragioni sono sicuramente condivise rimane sempre il rammarico per il fatto che molti tra coloro che a suo tempo presero delle decisioni oggi vorrebbero magari porsi come gli artefici di questa rinascita la ricostruzione ormai ha preso la sua strada e dopo nove anni come dicevo tutto ciò che abbiamo subito sulla pelle nostra e di tutti quanti delle imprese, di tutti quanti le nostre famiglie e davanti agli occhi di tutti però una mobilitazione di popolo come quella di oggi era sicuramente un'occasione importante perciò scendiamo in piazza tutti quanti spero Lei lavora per? Edimo Era importante oggi essere qui? Certo che è importante, non ho capito perché con tutte queste tasse che ci stanno mettendo praticamente ci fanno chiudere tutti quanti i cantieri Ecco non è il problema solo dell'impresa ma anche dei posti di lavoro che ci sono? Non c'è dei posti di lavoro soprattutto perché se chiude l'impresa automaticamente noi stiamo fuori quindi è importante per tutti gli operai venire qua a dare manforte a queste tasse Voi siete dell'Aquila? Io sono di Capestrano fuori dell'Aquila però lavoro qua all'Aquila Lei? I prosinori Ecco è importante essere qui perché la gente magari pensa solo all'impresa ma ci sono tutti i risvolti, ci sono i posti di lavoro, famiglie da mantenere insomma sarebbe un colpo mortale questo? Certo per noi è importante perché tenere un posto di lavoro noi stiamo lavorando grazie all'Aquila e quindi dovrebbe funzionare tutta la perfezione credo se no sarebbe una cosa noi buona gente abbiamo la famiglia non si sa come si deve fare giustamente no?